Accertate le condizioni di incandidabilità, è verificato che non vi sono condizioni di incandidabilità a carico del dottor Cosimo Damiano Carnito ai sensi della legge 285-2012, letto l'articolo 72,4 del decreto legislativo 267-2000, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla predetta carica, che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, accertato che il candidato dottor Carnito Cosimo Damiano, riportato fra tutti i candidati alla carica di sindaco del comune di Balletta, la maggioranza assoluta dei voti validi, vale a dire 26.579 voti validi, il presidente dell'ufficio centrale, mia persona, della sottoscritta Maria Grazia Caserta, alle ore 18.10 del 15 giugno 2018, proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Balletta, il dottor Carnito Cosimo Damiano. Primo giorno da sindaco per il dottor Mino Carnito, si è infatti ufficialmente insediato con la cerimonia di proclamazione che si è svolta nella ex sala del Consiglio Comunale di Balletta, al primo piano del Teatro Curci. Carnito indossa la fascia tricolore alla presenza del commissario straordinario della città, Gaetano Tufariello, che ha guidato Barletta negli ultimi mesi, prima del voto del 10 giugno, a seguito, lo ricordiamo, delle dimissioni di Pasquale Cascella e della caduta dell'amministrazione di centro-sinistra. Grazie a tutti. Spero di essere la terza del compito. Vi abbraccio tutti, grazie. Canito, contrariamente a quello che era nell'aria, ha vinto al primo turno con il 53% dei voti, evitando dunque il ballottaggio con uno degli avversari, che visto poi l'esito delle urne, avrebbe potuto essere il candidato del Movimento 5 Stelle, Michelangelo Filannino. Primario del pronto soccorso dell'ospedale di Miccoli, anche nel 2013 ci provò, ma non ce la fece in quell'occasione. Questa volta decisiva è stata la coalizione che lo ha appoggiato, cosiddetta del buon governo, formata, cioè, esclusivamente da liste civiche. Un'emozione grandissima ed è un avverto il senso, sento il peso della responsabilità di questa funzione, spero di poterla espletare al meglio per la mia città, per i cittadini di Berletta, che sono tutti amici miei e fratelli miei e sorelle mie. A chi la dedica questa vittoria, oltre che ai cittadini? A mio padre e a mia madre. Da domani, da lunedì al lavoro. Lo ha detto anche ora, andiamo tutti via, mettiamoci all'opera. Anche da ieri mattina, anche da domani mattina. Ho già incominciato a orientarmi e a valutare alcune situazioni che conto di portare a compimento la prossima settimana. Lei sarà un sindaco a tempo pieno? Sì, stamattina ho presentato la richiesta di aspettativa alla mia azienda sanitaria, quindi da oggi ufficialmente non sono più il direttore del Dipartimento di Emergenza, bensì il sindaco di Berletta.